A tempo quando ho iniziato a studiare ero sempre a rischio cacciata, perché tu in teoria quando sei lì non puoi fare i spettacoli, non puoi fare i provini, non puoi fare niente. Io invece ho fatto tutto e loro non erano d'accordo, però alla fine io dicevo la verità, mentre molti portavano il certificato falso, ho avuto la varicella, io andavo lì e facevo, ma non ho preso, ma voglio dire, ci alleniamo insieme tutto il giorno, per tre anni, se tu non fai il tifo per me c'è qualcosa che non funziona. Poi sì, sicuramente sono un po' in ritardo, ma tanto sono sempre in ritardo. Ci sono dei momenti in cui tutto ciò ti fa sentire smarrita, ti sei un minimo consolidata come persona, che è una parola troppo grande perché la realtà poi non è così, però mi sento meglio. Ma no m'è avuta troppa fretta, ho sento. Grazie. Grazie. Grazie.